Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici, signori, puntata del venerdì dedicata al ciclo I campioni italiani del passato. Oggi andremo a conoscere un giocatore poco conosciuto, un campione diciamo umile, nascosto, un giocatore che imparerà a giocare a scacchi all'età di 25 anni, quindi non un fenomeno, diciamo non un bambino prodigio degli scacchi, ok? Ragazzo molto umile, nato in Sicilia nel 1912 ad Agrigento, stiamo parlando di Vincenzo Nestler, cognome a ben poco di siciliano, a dire la verità. Non so bene che origini abbia, Nestler potrebbe avere vaghe origini ebraiche, non lo so, comunque è un cognome particolare, soprattutto per la terra sicula. Giocatore che imparerà a giocare a scacchi all'università, incomincerà a studiare scienze matematiche a Messina, per poi continuare a studiare la Sapienza di Roma, diventerà un forte giocatore di scacchi, capace di vincere per ben tre volte il campionato italiano di scacchi, il primo nel 1943, il secondo nel 1954 e poi uno a pari merito con Castaldi nel 1959. Il meglio di sé lo ha dato nei primi anni cinquanta, all'età di quarant'anni ha cominciato a dare il meglio di sé a scacchi, ok? E' cominciato molto molto tardi. Un giocatore che non aveva grosse peculiarità, non aveva una storia movimentata alle spalle, non era uno che si facesse notare per qualche vezzo, era una personcina tranquilla, uno studioso, un ragazzo umile, ragazzo che sapeva usare bene nella testa, segnalato, e non solo a scacchi, persona posata e con una piccola caratteristica sulla scacchiera. Era un giocatore di sistema, ovvero, gli piaceva impostare sempre il sistema Colle con il bianco, l'est indiana e la siciliana con il nero. Tendenzialmente sistema Colle era il suo pezzo forte, nel quale ha anche trovato alcune linee alternative, perché il sistema Colle, comunque assieme al London System, sono i due sistemi, diciamo, che vanno per la maggiore tra i novizi. non c'è bisogno di una grande preparazione teorica, insomma, nascono sempre partite tranquille, ma lui era anche capace di trasformarle in spremute del sangue, ok? Aveva la capacità di trasformare il piattume in partite incandescenti. Bene. Andiamo a vedere sei partite, tre col bianco e tre col nero. La prima partita del 1952 contro Porreca, quello che ha scritto il libro sul manuale degli scacchi, ok? Quindi grande Porreca. Molti di voi si chiederanno quanti giocatori farò ancora e chi porterò qui nel capitolo dedicato agli scacchisti, i migliori scacchisti italiani della storia. Ho tralasciato quelli ante 1800, e ce ne sono di fantastici, però non sono voluto andare troppo in là con gli anni. Ho tralasciato alcuni nomi per motivi sia personali che etici, come Tatai, che è stato quello che ha vinto più titoli in assoluto, però è una storia che non mi piace ripetere, insomma, niente di grave, però... Va bene. Ho una persona un po' così, un po' arrogante, un po' piena di sé, purtroppo non mi piace parlare male di che non c'è più, però... Tatai... non voglio trattarlo. Chiaramente lo citerò, è stato uno dei più grandi scacchisti italiani, tratterò ancora... Kozulic, che sarà una storia al limite del paranormale, signori. Kozulic, un uomo che non si sa ancora oggi se sia vivo o se sia morto, ok? E' stato trovato, non è stato trovato, disperso in un terremoto, una cosa pazzesca. Poi... Non so se fare il video su Enrico Paoli. Enrico Paoli è conosciuto più come decano degli scacchi, è giocato fino a 96 anni. Conosciuto come grande organizzatore di tornei. Non so se fare il video anche su Enrico Paoli. Sicuramente su Sergio Mariotti, su Elvise Zichichi e su che ha giocato per la nazionale italiana. Se dovesse andare proprio sulla genealogia del sangue, no? No, proprio se dovesse parlare di italianità, proprio di sangue, dovrei citare anche Fabiano Caruana. E devo vedere un po' come impostare la cosa. Lui è statunitense, sì, però dopo il passaporto, passaporto italiano e statunitense. Nato da genitore italiano, italiano. Comunque lui ha sangue italiano nelle vene, insomma. Ha più sangue italiano lui di me nelle vene, quindi c'è poco da fare. Cioè lui è proprio un italiano mediterraneo doc, ok? E magari tratterò anche Caruana, vediamo, vediamo un po'. Bene, torniamo noi. Partita contro Porreca, quindi del 52, pezzi bianchi per Vincenzino Nessler, pezzi neri per Porreca. Questa volta però, siamo nel 52, Vincenzo non apre uno di quattro, niente sistema collo. Voglio giocare uno e quattro. Giocava anche uno e quattro, però giocava la partita di Vescovo, ovvero e quattro e cinque Vescovo c4. Gli piaceva giocare sistemi in apertura apparentemente innocui, però non privi di veleno, ok? E quattro e cinque di Porreca. Eccola qua, la partita di Vescovo, l'ho chiamata anche partita d'alfiere, che io lo chiamo Vescovo, ok? Cavallo F6, attacca il pedone in E4. Donne 2. Questa è una specialità di Nessler. Donne 2 della partita di Vescovo, signale. Non cavallo C3, che rientrava nella viennese. Era possibile anche giocare D3, la preferiva. Comunque, Donne 2 è molto interessante, perché dà la facoltà al bianco di arroccare anche lungo, e in più la donna difende il pedone, difende il vescovo. E' interessante, il motore è una linea che oggi non vedrete più, tra i top GM, perché è una linea che da poco al bianco. Da veramente poco. Rientra nelle aperture giocabili, ok? Ah, siamo qui anche in compagnia del Leviatano Interiore. Signori, il Leviatano Interiore, che nel mio caso è esteriore, perché è uscito fuori dal mio stomaco. Lui seguirà ogni intanto le partite, non parla, quindi non può comunicare con voi. Può comunicare solo con me a livello telepatico. Bene. E' un personaggio dei tanti. Poi dovrò mettere un po', perché poi ci saranno anche i barbascacchi, ovviamente. Però devo trovare in un sondaggio l'ospite perfetto, il vicebredi. Bisogna trovare un vicebredi fino al solitore. Quindi bisogna votare. Non è che ce ne siano tanti, però vediamo, votiamo. Cavallo F6, sviluppa i cavalli, tranquillo, in apertura. Parreca. Cavallo F3, mossa di sviluppo. Vescovo in E7. Questa è un'apertura anche con il bianco che consiglio ai novizi. Ok? Su quelle aperture dove restiate poco, ma imparate a sviluppare i pezzi, come vanno sviluppati in apertura, ok? Anche con un tocco naif del donna E2, ok? Che non guasta mai. Che non guasta mai, signori, signori. D3, arrocco corto, arrocco corto. D6, idea di giocare pescovo G4 per inchiedere il cavallo. Qui è possibile anche H3, per evitare questo fastidio. Il motore prende in considerazione le linee un po' più moderne, come A3, A4, all'alfanzia. Vediamo come gioca nel 52 Vincenzo Nestler. H3, infatti, evita vescovo G4. Proprio giocatore, dire scolastico sarebbe ridutevo. Giocatore semplice, senza grilli per la testa. Uno studente modello. Cavallo in A5, ecco. qui si vede la differenza tra gli scacchi di quegli anni e gli scacchi di oggi. Oggi nessuno avrebbe giocato H3. Avrebbero giocato tutti o A3 o A4. Perché? Perché con cavallo A5 il nero cattura la coppia dei vescovi, che all'epoca non aveva un'importanza così pugnace come oggi, signori, ok? Ecco qua. Volevi dare la coppia dei vescovi. Vescovo in B3. Cavallo per. Pedone per. La struttura pedonale, come potete vedere, è abbastanza fissata, quindi i cavalli giocano ancora bene. Però se si aprisse il gioco nel centro partita o nel finale, chi ha la coppia di vescovi potrebbe avere un leggero vantaggio. C6 porrica piano piano, prepara un piano interessante, tipo donna C7 e D5. Bene. Bene, signori. Ho provato a modificare un po' il microfono del mio programmino di registrazione per capire se si sente meno la ventola rispetto ai video precedenti. Però la mia voce si sentirà un pelo più bassa. Fatemi capire cosa preferite. Cavallo C3. Continua lo sviluppo. H6. Anche porrica, vedete, mosse d'attesa, mosse pacifiche, un'apertura solide. Gioco solido. Cavallo H2. Idea di fare F4. Da qui si comincia a vedere la pseudo-aggressività, l'aggressività nascosta, no? In stile levietano interiore. Perché dovete sapere che Nessler era una personcina a modo, uno studente modello, educato, tutto quanto, esternamente. Internamente era falcidiato da un po' di inquietudini. In realtà lui voleva essere un pirata, voleva essere un avventuriero. Il suo vero sogno era quello di essere più tracotante. Ok? Quindi questo cavallo H2, che sembra una mossa che torna indietro, è per fare F4. Ora trasformerà un'apertura semplice, pacata, come la partita del Vescovo, addirittura dando via la coppia, con questo attacco sulla di re. Vediamo. E anche il porrica lo imita, vuole fare F5 anche lui. Le spinte di rottura del nero sono D5 e F5. La spinta di rottura del bianco praticamente è solo F4, perché D4 è, per ora, impossibile da realizzare. Si potrà realizzare in futuro, magari dopo le scove 3, torno e pernigotti in D1, però vedete che il torno e pernigotti sta già bene sulla colonna aperta. Quindi il bianco avrà questa spinta di rottura, dovrà stare attento soprattutto a D5 del nero. F4 e la gioca, signori, e il motore comincia a dargli ragione. Un microscopico vantaggio, pari possibilità, però è un po' tranquillo come impianto. Presa, presa con il Vescovo. Vescovo D5, qui il porrica vuole cambiare pezzi. Uno può dire, ma perché ridà la coppia dei Vescovi? È un'imprecisione sicuramente. Avrebbe stato meglio cavallo G5. Cavallo va a cavallo E6. Andrà a disturbare il Vescovo e a disturbare la casa D4. Vescovo D5 va contro i principi moderni degli scacchi, per moderni intendo i giorni di oggi, i nostri giorni. Perché ridare la coppia di Vescovi quando l'hai ottenuta? Non lo so. Cosa ha visto? Donnetra, migliora del motore. Non cattura subito la coppia di Vescovi. Rincara la dose. D5, l'altra spinta di rottura del porrica, al centro. E sapete cosa minaccia, signori? Il forchettone! Il forchettone, signori. Il famoso forchettone. Qui Nestler cambia il centro. Presa, presa. Pedone isolato. Pedone isolato, pedone sfortunato. Proprio bisogna stare attenti al forchettone. D4 mi piace particolarmente, perché blocca il pedone isolato. Lo attacca due volte. Continua a difendere il Vescovo, comunque è difeso anche dal trone per Nigotti. E da D4 potrebbe essersi attaccato da Vescovo F6. Però perderebbe il pedone, quindi dovrebbe giocare Vescovo E6. Donna D4 mi piace. Vediamo se la gioca il nostro Vincenzino Nestler. Cambia prima il Vescovo. Riprende la coppia di Vescovi. Ora siamo due cavalli contro Vescovo e Cavallo. Due cavalli giocano meglio di Vescovo e Cavallo. Due Vescovi giocano meglio contro qualsiasi cosa, contro i due cavalli e contro Cavallo e Vescovo. A coppia di cavalli però gioca meglio contro Vescovo e Cavallo. Donna in D4. Uno mi potrebbe dire, ma perché due cavalli giocano meglio di Vescovo e Cavallo? Ve lo giocano. Adesso, ok, il cavallo può saltare sia su case scure che su case chiare. Potrà difendere le case scure solo con un pezzo leggero, ovvero l'altro cavallo. Ma il bianco ha due pezzi leggeri che possono controllare le case scure, signori. Quindi due pezzi contro uno per controllare le case scure e questo è un leggero handicap per il nero. Vescovo V6 deve difendere col pedone isolato. Cavallo F3. Qui una mossa che non ho capito bene. Cavallo V2 sembrava... sembrava forte. Perché minacciava cavallo F4, Tori D1, insomma, minacciava pressione anche su questo Vescovo. Vista. Voleva ritirare fuori il cavallo, però a questo punto qui si andrebbe in una partita di cavallo contro Vescovo. Un Vescovo che per il momento è passivo. Cavallo F3. Cambio. Porreca cambia perché pensa che anche lui che i due cavalli sono più forti di cavallo Vescovo e cambia il pezzo. Preso il torneo per migrotti. Vuole cambiare le donne. Cambio delle donne, signori. Chi favorisce qui? Da una parte potrebbe favorire il bianco perché dopo aver cambiato le donne soltanto un pezzo leggero del bianco può controllare le case scure mentre il nero non ha più pezzi che controllano pezzi leggeri. Vescovi e cavalli che controllano le case scure. Quindi potrebbe essere un vantaggio per il bianco. Però potrebbe anche essere un vantaggio per il nero per difendere questo pedone. Perché la colonna è chiusa e non si può attaccare bene questo pedone. Vediamo se cambierà le donne. Non le cambia. Rincara la dose. Rocklift. Torone per migotti a difendere la donna. Vuole ricatturare il torneo per migotti per fare sempre pressione sul pedone. Cambia le donne. Porreca. Presa, presa. Torone per migotti in C8. Migliora il torneo per migotti. E qui una mossa assurda. Torone per migotti in F2. A posto di giocare la naturale Re F2 e salire su come il caffè al mattino. Preferisce giocare una mossa molto molto enigmatica. Ma in realtà fino a un certo punto. Perché? L'idea è quella di togliere questo cavallo. Magari giocare manovre come B5 A4. E difendere il pedone. Che sarebbe sotto cattura del torneo per migotti. Bene. Qui. Porreca solido. Difende questo pedone debole. Il torneo per migotti. Adesso ancora migliore. Va anche sulla colonna E. Per salire su come il caffè al mattino. Potrebbe giocare in questo modo qua. Difendere il pedone con il Re. E manovrare. Una partita molto tecnica. Rocklift anche del Porreca. Ok. Signori. Mi raccomando like e iscrizione. Like e iscrizione in campanellina. Mi raccomando. Viene su come il caffè al mattino. Nessler. Ok. G5. Guadagna spazio per il finale. Porreca. G4. Vuole bloccare tutto. Però questa non mi piace tanto al motore. Ok. Viene su. Eh. Perché voleva venire su come il caffè al mattino. Anche Porreca. Signori. Viene su con il caffè al mattino ancora Nessler. Signori. A6. Toglie la casa B5 al cavallo. Torrone per migotti in F2. Questo torne per migotti. Cambia direzione. No. Cambia colonna. È un torne per migotti prensile. No. B5. Tutte queste spinti di pedoni servono a Porreca per avvantaggiarsi in un eventuale finale. Guadagna spazio. E toglie casa al cavallo. Ok. Però qui vedo una bella manovra. cavallo D1. Cavallo E3. Per controllare questa casa in F5. Non è comunque semplice vincere questo finale. Perché è gioco pari. Gioco pari. E la gioca cavallo di una migliore del motore. Signori. Raddoppi i torni per migotti per attaccare il pedone debole in C2. Qui io giocherei C3. Ma la migliore del motore è cavallo. E in E3 difende il pedone e attacca pedone. A5 all'alfa zero. Guadagna spazio. C3. Solidifica. Difende il pedoncino. Porreca. C4. Manovra di torne per migotti. Eccolo qua. Torre in A1 per attaccare il pedone in A5. Difende Porreca il pedoncino. C4. Ok. Non è la migliore del motore. Il motore preferisce B4. Però non so. Avrebbe paura di A4. Però C4 è la seconda migliore del motore. E di rottura. Una spinta dirompente. Presa. Presa. Si sdoppia i pedoni e non può più ricatturare il neo. Perché c'è il torne per migotti. Sospeso. E viene su come caffè a mattino porreca. Ma è un mini Blunders. Inizia a avere un po' di vantaggio qui il bianco. Che guadagna un pedoncino. Probabilmente. Vediamo. Presa. E qui Blunders. Blunders. Perché il porreca detto non può prendere il vescovo. Perché perderebbe il torne per migotti. Ma qui invece è la mossa migliore. È la mossa migliore. Ma la giocherà sacrificherà la qualità? Eh sì che la sacrificherà la qualità. Perché qui non si è accorto di una cosa. Dopo la presa. Prende il torne per migotti. Un semplice cavallo F5. Doppiazzo. Porreca qui. Un Blunders clamoroso. E la gioca Nestler. E appena si è accorto del paciugo combinato il porreca. Ha abbandonato. Porreca ha scritto il manuale sugli cittadini. Potono capitare. Possono capitare questi Blunders. A tutti signori. Possono capitare. A tutti. Bene. Andiamo a vedere la seconda partita. Bene signori. Seconda partita. Vincenzino Nestler. Pezzi bianchi. Contro il decano dello scacchismo italiano. Enrico Paoli. Signori. Torneo di Firenze del 1953. Questa è considerata la più bella della partita della carriera di Nestler. Che a differenza di molti giocatori italiani. Ha giocato poco contro i biggest stranieri. Ha partecipato solo a due olimpiadi degli scacchi. Quella del 50 a Dubrovnik. E quella del 54 a Helsinki. Non ha quasi mai giocato all'estero. Tornei. Non ha mai giocato tornei all'estero. Quasi mai. E quindi è per questo. Giocatore proprio nostrano. Giocatore autarchico. Giocatore che insomma amava sì gli scacchi. Ma in realtà era. Che possiamo dire. Un fortissimo dilettante degli scacchi. Nel senso. Non era un professionista degli scacchi. Lui era un professore di matematica universitario. Era una mente eccessa. Però giocava a scacchi. Non dico a tempo perso. Giocava giusto i campionati italiani. Qualche torneo qua e là in Italia. E un paio di manifestazioni con la nazionale. Ok. Un peccato perché era un giocatore interessante. Per questo che ho voluto proporvelo. Bene. Partita del 53. Contro Enrico Paoli. Andiamo qua. E4. Anche qui. Forse l'ultima partita da vedere a sistema Colle. Qui E4 sempre negli anni 50 giocava spesso la partita di Vescovo. Però stavolta non gioca la partita di Vescovo. Gioca Cavello. In F3. Signori. Ho voluto sorprendere Enrico Paolo. Ok. Cos'è una? Rui Lopez? Cosa fa? Una partita italiana. Signori. Partita italiana. Era abbastanza rara. È diventata sempre più rara. No. Fin dagli anni sessanta, settanta, ottanta, novanta. Quasi a sparire. Erano praticamente solo Rui Lopez. Soltanto negli ultimi quindici, ventiquindici anni, l'ultimo quindicennio, diciamo, la partita italiana è tornata in voga, signori. Ok. Bene. Vescovo G5. Partita italiana. B4, signori. Gambetto Evans. Stupisce tutti. Perché? Generalmente Vincenzino Nester era conosciuto come un giocatore dalle aperture, diciamo, modeste. Delle aperture un po' così, un po' giocatore rallentatore, no? Quelle tranquille, quelle soporifere, no? Un po' alla Bredi. Però qui adesso gioca Gambetto Evans. Cattura il pedoncino Enrico Paoli. Ma questa qui deve essere più stata un'idea del suo deviazione interiore, che ha detto, gioca per una volta il gambetto nella tua vita. Fai il coraggioso per una volta. E vediamo i risultati. C3. Qui tutta teoria. Vescovo E7. Non è considerata la principale, il gambetto Evans. La principale è Vescovo A4, Vescovo B6. Vescovo E3 è un trattamento abbastanza nuovo, moderno. Vi consiglio di andare a vedere anche il gambetto Evans nella mia playlist delle aperture. Vescovo E7. D4. Conquista il centro. In cambio del pedone sacrificato, il bianco tiene un buon sviluppo, è un fortissimo centro di pedone. È stato giocato anche spesso da Kasparov e da Bobby Fisher. Il gambetto Evans non è una porcheria. Oggi non si gioca più, perché in moto ha risentenziato il nero pareggia in tutte le linee, a livelli top. Ok? Qui Paoli gioca a cavallo a 5, ok? Per attaccare il Vescovo, per catturare la coppia di Vescovi. A gioco aperto. Qui recupera il pedoncino. Nestler. Presa del Vescovo. Ok. Il nero adesso ha un compenso. Ha dato indietro il pedone per avere la coppia di Vescovi. A gioco aperto, però il bianco ancora il forte centro dominante di pedoni. D5. Paoli vuole subito andare a spaccare un po' questo centro di pedoni. Presa. Presa con la donna. Nero è un gioco veramente comodo. Cavallo E3. Attacca la donna. Però Nestler era proprio capace di trasformare questo piattume poi in partite brillanti. Arroco corto. Tranquillo. Cavallo F6. Torrone per miglottine. Uno. Si metterà Gx in faccia al Re. Che adesso arrocherà probabilmente. No. Vescovo V6. Sviluppa ancora pezzi. Enrico Paoli. Signore qua C4 mi piace. Perché minaccia D5 con complicazioni. Vediamo. E la gioca. Signora migliore del motore. C4. Motore continua a dare gioco pari. Anzi leggerissima preferenza nera. Perché al motore piace la coppia di Vescovi. Gli dà sempre uno 0,5 in più a chi ha la coppia di Vescovi. Quindi C6. Vuole stoppare D5. Paoli. Vescovo D2. Attacca la donna. Sviluppa un pezzo. Guadagna un tempo. Donna C7. Donna F3. Donna F3 aiuta a controllare la spinta. Vuole spingere in D5. Signore. Ok. Questo cavallo andrà in C3 prima o poi. Vediamo. Torrone per miglotti in E8 di Paoli. Non vuole far fare D5. Vescovo C3. Non cavallo C3. Perché non cavallo C3? Perché c'è il pedone in preva, segnali. Vescovo C3 difende il pedone. Arrocco corto. A4 all'alfa zero. E quando vi dicono che queste mosse di pedoni laterali le inventate la realtà virtuali, l'intelligenza artificiale, non è vero. Vi prendono in giro per fare pubblicità queste nuove tecnologie. In realtà noi esseri umani già eravamo capaci di giocare in questo mondo qua. E A5 di Paoli a bloccare tutto. Torrone per miglotti in C1. Questa è una mossa clamorosa. Si mette la GX sulla donna. Su una colonna chiusa. Sembra antiestetica perché ha il cavallo ancora da sviluppare. Torrone per miglotti che stava benino su questa colonna lo sposta su una colonna chiusa. Però c'è un'idea dietro. Quella di spingere in D5 prima o poi e di non lasciare catturare col pedone perché arriverebbe una scoperta. Poi c'è ancora il vescovo di mezzo. Interessante. Vediamo il motore come valutava. Una linea. Si, il motore preferiva Torre D1. Sempre con l'idea di D5. Però questa Torre C1 è interessante. Interessante. Vescovo B4. La migliore del motore. Vuole provare a cambiare pezzi. Il buon Enrico Paoli. Per sapere che Enrico Paoli era anziano sin da quando è cominciato a giocare a schiacchi. Cioè, non è mai stato giovane in realtà Enrico Paoli. Enrico Paoli aveva 96 anni anche quando è iniziato a giocare a schiacchi. Tutti lo conoscono da anziano. D7. Solido. Finalmente sviluppa il cavallo Nessler. Però al motore non piace. Adesso fa pressione sul pedone. Enrico Paoli. E spinge D5, signore. Aggressivo. Attacca la donna. In realtà è un cambio di pezzi qua. Questa non l'ho capita. Cioè, ridà la coppia di Vescovi all'avversario. Vediamo. Non cambia. Tiene la donna sulla G perché c'è questa sorta di motivo tattico nell'aria. Chi ha questo motivo tattico nell'aria? Paoli attacca la donna. Donna H4. Vescovo E5. Vedete? Adesso il Vescovo si pone come barriera soprattutto questo Vescovo. Ok? H3 intero del Vescovo delle case chiare. Sposta il Vescovo Enrico Paoli. E qui. Tornietro col Torone Pernigotti. Avete visto anche nella prima partita Nessler amava ciondolare coi Torone Pernigotti. No? Per non darvi mai punti di riferimento. Un po' direi Torone Pernigotti falso 9. Ok? Non vuole dare punti di riferimento ai difensori. Un attacco mobile. Un po' di sarrismo sulla schiacchiera. Quindi Vescovo G6. Solida. Torone Pernigotti. sulla colonna in faccia alla donna. Raggi X. C5. Mossa di blocco che concede però un pedone passato per il finale. Un mezzo blunder posizionale qui da parte di Enrico Paoli. Ed ha anche la casa forte qui. in B5. Però qui. Nessler giocava una mossa pazzesca. Vescovo A1. Che è la seconda migliore del motore. Signale. Ma questa è una mossa pazzesca. Di una sottigliezza posizionale assurda. Ma che è sta? Vuole portare il Torone Pernigotti sulla B. Improvabile. Vediamo. B6. Cavallo B5 a migliore del motore. A un certo punto iniziava a partire con le migliori del motore. Un'apertura sempre così così. Sempre sorgnone. Sempre un po' massì. Pattaiolo. Noiotone. Ma alla fine qua. Cambia il Vescovo. Presa. Presa. Adesso la natura della posizione è chiusa. E siamo partiti da un gambetto Evans. Mica da un sistema a colle. Eppure la natura della posizione è chiusa. I pedoni sono abbastanza fissati. Quando vedete tanti pedoni fissati i cavalli sono più forti dei Vescovi. Anche se questo Vescovo sembra bello da vedere. No. Perché difende e attacca. Un caposaldo. Però qui c'è un pedone passato. Un cavallo molto forte. E piano piano il bianco può migliorare la sua posizione. Torone Pernigotti è la migliore del motore, signori. F3. Una mossa che io non avrei mai giocato. F3. Sembra che non abbia un senso come mossa. Eppure ce l'ho. Torone Pernigotti e Rook Lift di Enrico Paoli. Donna in F4. Attacca Torone Pernigotti. Raddoppi trovi per Miglotti. G4 la migliore del motore. Ne ha infilate sei di fila del migliore del motore. Questa posizione è molto originale. Molto originale. H5 all'Alfa Zero di Paoli. Incredibile partita. Si è trasformata. Sale su come caffè al mattino. La migliore del motore. Ovviamente la migliore del motore. A un certo punto questi qui baravano. Signori. Pazzesco. Nestler. Viene su come caffè al mattino. Presa. Presa col pedone H. Adesso anche colonna H aperta per il bianco. Ci sono dei motivi con Torre H1 e Donna H2 per dare matto. Torre. Attenzione. Attenzione. Allarme rosso. E' quei blunders di Enrico Paoli che non si accorge qui di cosa sta per succedere. Però... Il torone per Miglotti non si può ancora togliere. Se no cadrebbe il cavallo. E questo è anche uno dei motivi per cui Paoli era tranquillo che non arriva se Torre H1. Però qui arriva D6. E' una mossa devastante da motore però. Adesso è una mossa da motore. Torre AD1 è umanoide. E' più nell'epoca. E' più da anni cinquanta. Vediamo. Invece gioca un Rocklift. Torre A3. Fantasiosa. Perché difende il cavallo. Ma vuole fare questo benedetto Torre H1 e Donna H2. Questo è il suo piano. Cavallo H7. Paoli intanto stoppa la casa H8 blindandola col cavallo. Il cavallo poi può dare spazio a Donna G5, cambiare le donne. non so, però al finale mi sembra favorevole al bianco eh. Ecco Torre H1. La gioca. F6. Blunders. Cerca di contenere, cerca di contenere, però qui... Qui però bisogna trovare cavallo A7. Ok, l'idea è di dare il doppia però... Magari non è la mossa che arriva subito immediata, no? E' la gioca. L'unica che continua a giocare per vincere. Tutte le altre portavano al gioco pari. Attacca il cavallo con la donna. Cavallo C6. Attacca il trono per niglotti. Torre G5. Blunders. Qui è Torre B3. è la migliore del motore. Ovvio. Attacca il pedone debole. Signori. Donna a difendere il pedone di Enrico Paolo. Quei si è messo a raggi X. Che succede? Il motore è andato a A7. Eppure siamo a materiale pari, eh signori. E' stato distrutto a livello posizionale il nero. Qui donna a D6. Che, devo essere sincero, non l'avrei mai giocata. Ecco, cosa avrebbe giocato un giocatore, un peppino meccanico come me? Cosa avrebbe giocato? La prima cosa che gli veniva in testa era quella di prendere il pedoncino, visto che il pedone è inchiedato. Ma mi sa che sarà un Blunders. Non so perché. Però io avrei giocato così. Lampo avrei giocato così. Continuava ad avere un discreto vantaggio, ma non da motore. Ok? Basta avanza per vincere alla Bredi. Alla Bredi. Però, se vuole essere brillante, bisogna trovare Donna D6. La migliore del motore, signori. La migliore del motore. Ma che è? Allora, dalla mossa 25, più o meno, le ha prese tutte le migliori del motore. Pazzesco. Pazzesco, Nessua. Donna D6 è di una complessità abnorme. Ma qual è il vero obiettivo? Forse adesso si minaccia il cavallo, è più forte adesso il cavallo per A5, perché poi cade anche questo. Non lo so. Vesco F7. Come potete vedere, il motore non tiene in considerazione questo cavallo per pedone. Ma perché? Perché il cavallo F5 ha una buona mossa. È forte, prende una bella casa, attiva il cavallo. Ma cavallo per, sembra buono. Vedete? Mantiene un vantaggio di più 6. Ma va bene, no? Questa è la mossa umana. Prendi un pedone inchiodato. Prendi un pedone in difesa, perché praticamente c'è un'inchiodatura, no? Però qui il motore del cavallo F5 è super mostruoso. Anche F4 è super mostruoso. Vediamo se Nessua è in modalità alfa 0. No, qui Nessua addirittura sacrifica al trone per Nicolatti. Fantasy Champagne. Scacchi Champagne. Questa, il motore, non la prendeva in considerazione, ma è vincente. È pazzesca. Questa è veramente fuori di testa. Perché non può prendere di donna, altrimenti arriva a scacco con cattura della donna. Spettacolo. a un certo punto iniziava, andava in modalità spettacolo. Circo Togni, signore. Circo Bagonghi. E qua Paoli ha abbandonato, veramente. È quasi forzato a prendere. Tipo donna C8. Scacco ancora. è doppio, perde un torno per Nicolatti. Qualità. È una spremuta di sangue. Non ha senso proprio continuare. Cavallo F5 nell'aria. Cavallo D6. Tacca qui. Tacca qui. Minaccia questa. Raddoppiare. Raddoppiare per prendere la donna. È una spremuta di sangue assurda. La più bella partita di tutti i tempi di Nesler, signori. Bene, andiamo a vedere la terza partita. Bene, signori. Terza ed ultima partita con i pezzi bianchi di Vincenzino Nesler. 1967. Torneo di San Benedetto del Tronto contro lo jugoslavo Jubisaldievic. Negli anni 60 i giocatori jugoslavi erano potentissimi, fortissimi. La scuola jugoslava era seconda soltanto alla scuola sudietica. La scuola jugoslava, dopo la guerra civile degli anni 90, dopo lo scioglimento della nazione jugoslava, è praticamente decaduta. È decaduta. Non ci sono più i fenomeni dello scacchismo jugoslavo. Ci sono due o tre giocatori della Serbia, uno della Croazia, ma poca roba oggi. Una volta sfornavano campioni su campioni. Era la seconda nazione dopo l'Unione Sovietica per grandi maestri. Vediamo, un avversario temibile, no? Perché qui Vincenzino Nesler ha ben cinquantacinque anni. Mek ha, diciamo, uno scolaro del ginnasio, signori. E qui cavallo F3. D5. D4. Trovo un sistema colle. Arriverà il sistema colle, signori. Arriverà il sistema colle. E sistema colle sia. E sistema colle sia. Andiamo a vedere come tratterà questa apertura considerata l'apertura per eccellenza dei novizi. Un'apertura, tra l'altro, che mi ha sempre dato fastidio con i pezzi neri. Ma quando giocavo con i neri, mi giocavano il sistema colle. Facevo una fatica bestia. Io ero sempre preparato sulle linee dei gambetti di donna. Non ti davano punti di riferimento, signori. G6. Vescovo D3. Vescovo in fianchetto. Arrocco corto. Arrocco corto. Cavallo va in D2. Tipico del colle. Bene. B6. Doppio fianchetto. Tipico del giocatore più forte che non vuole dare riferimenti teorici al suo avversario. E4. La spinta tematica del sistema colle, no? Gioca tutto questo impianto, anche a volte torre E1. Generalmente è anche C3. Però siccome il nero non ha fatto C5, fa subito E4 bianco. Vescovo A6. Originale, gli bisallievi. Si cambia il vescovo. No. Spinge. Spinge lo peloncino. Ora qua, prendere il vescovo non va bene. Perché si prende il cavallo, si prende il trone per nigotti, si prende il vescovo e si attacca il trone per nigotti. Si toglie il cavallo. Vescovo A6. Cavallo A6. Come potete vedere? Nessler era allergico alla coppia di vescovo. Lui aveva l'alfierite, come si dice? aveva la dermatite dal fiere, l'alfierite, non lo so, la dermatite, cosa aveva non lo so. Comunque aveva solo sempre la coppia di vescovi, la buttava sempre nel gabinetto. Donna in E2. Poi, se si parla di sindrome, io non è che sto passando un bel periodo, perché devo capire sta tiroide come mi sta andando, perché passano i giorni, ogni giorno che passano mi sento invecchiato di dieci anni. È pazzesco. Ma come energie, proprio… Poi di notte ho degli risvegli improvvisi, con tachicardia, capogiri, tipo mi addormento e dopo due ore mi risveglio all'improvviso con attacchi di panico, non so bene che cosa sia, non riesco a capire che cosa c'ho, non riesco più quasi a muovermi. Spero di non avere qualcosa che mi porti male subito, comunque. Sarà quel che sarà. Speriamo. Cavallo B3. H6. E poi, volevo dire una cosa. C'è questo Lucy qualcosa che adesso ho cancellato dal canale, ho eliminato tutti i suoi commenti. non so come si faccia a eliminare, a togliere… non lo so… l'ho bannato, ho bannato completamente. Perché tutte le volte viene a dire qualcosa. È riuscito ad offendere anche Brady, perché finché offendi me ci sta. Ma vai a toccarmi Brady, è finita. Ma ha scritto… ma questi video… come fa il tuo ad essere il canale preferito tra gli youtuber scacchistici? Racconti solo storielle per bambini con un bradipo di peluche. Cioè… e poi io mi arrabbio quando vedo trattati di scacchi in questo modo qua. Ma cosa vuoi? Ma guarda, te lo dico, è la tua stessa nascita che ha dato un danno agli scacchi. Perché sono le persone come te. No. Che stanno lì a pignoleggiare, pignoleggiare sulla vita degli altri. Che rendono questo gioco antipatico a quelli che lo conoscono poco. Anzi, quelli che cominciano a giocare a scacchi e a frequentare i circoli. Se ne accorgono poi. Se ne accorgono di questa pignoleria che c'è nell'aria. Questa sorta di fanatismo da templari degli scacchi. No. Oh, gli scacchi sono il nobil gioco. Non si possono farcire. Ok. Gli scacchi sono il nobil gioco. Però io il canale l'ho impostato leggero. L'ho impostato anche per far piacere alle persone che magari hanno dei problemi nella vita più gravi che diventare maestri di scacchi. persone che magari hanno voglia di passare un po' di tempo in serenità, visto anche i periodi. Persone anche come me che non stanno bene, di salute, che vogliono avere qualcosa per cui avere un pochino più di, non so, euforia, un pochino più di allegria. Ok. E arriva la gente come te, no, a distruggere tutto. Proprio a calpestare tutto. E poi sarei io il politicamente scorretto. Sono io l'odiatore. No, non è vero. Io sono una persona sentimentale. è vero. Sono un sentimentalista. È vero. È vero. Sono una persona che, ok, si lascia prendere dalle emozioni. È vero. Però cerco sempre di rispettare gli altri. Cioè non mi permettere mai di andare in un canale a dire, ma guarda te che maglia stifosa che porti. Ma che taglio di capelli è quello? È un taglio di capelli da youtuber. No. Hai la faccia troppo brutta per farlo youtuber. Delle cose del genere. Ma potete prendervela con Brady. Mi raccomando, proprio anche alla faccia di questi personaggi qua. Votate. Lo youtuber del cuore. Votate per Brady. Non votate per me. Ok. Perché Brady fa piacere anche i bambini. Perché che male c'è a raccontare gli scacchi un po' così anche in maniera infantile. Può essere infantile, può essere fiabesco. Ecco. Il termine giusto è fiabesco. In modo fiabesco anche per i bambini che vogliono avvicinarsi agli scacchi e magari vedendo Brady chiedono alla mamma di poter imparare a giocare a scacchi e diventare come Brady. Non capisci niente. Questo essere qui non capisce niente. Questo tipo di persone qui che tra l'altro avesse avuto il coraggio di mettere il suo nome. Adesso vinciatemi direte sì ma quelli lo fanno apposta per provocare. Mi interessa. Mi interessa. Non lo devono fare. Devono capire che non ottengono nulla. Io continuo ad andare avanti col mio canale. Pensano che con quei commenti il canale venga chiuso per disperazione, che mi metta a piangere. Pensi veramente che io mi metta a piangere? Ma stiamo scherzando. Io mi arrabbio sì. Io mi arrabbio perché le persone come te, no, sono come quelle che vanno in giro tutti vestiti, sempre col vestito della domenica, vanno a messa, e poi magari escono dalla chiesa, c'è il mendicante che chiede due centesimi e qua lo dice ma ti sembra onorevole stare, fare il barbone davanti a una chiesa? Ti sembra rispettoso davanti al Signore stare in questa condizione qua? E queste persone qui che non capiscono nulla, non capiscono nulla, no? Disumane, disumane, completamente disumane. Io per carità ho anche altri difetti, ho le mie idee sul mondo, ma non odio nessuno, non odio nessuno. Io voglio che le cose stiano, insomma, ogni cosa deve stare nella sua scatola, ok? Questo canale sta nella sua scatola e chi viene a rompere le scatole mi trova, ok? Bene, bene. Chiudiamo questo argomento. Il prossimo che trovo, che dice, allora, un conto è criticare in maniera costruttiva, un conto è sempre denigrare, denigrare di continuo, no? Rendere ridicolizzare chi fa un lavoro, comunque. Perché è un lavoro. È un lavoro diverso da quelli dei top GM. Se questo è abituato a stare, andare a lezione dei top GM è che si guardi i canali di top GM, no? Io ho il permesso, ho la libertà di fare questo canale. Quando arriverà il regime di Pol Pot e dirà che chi è sotto i 2600 non può fare video di scacchi, ma non li farò più. Ma io sto cercando, più che altro, non di far diventare campioni le persone, io voglio cercare di dare un po' di serenità alle persone, ok? I barbascacchi, i brevi. Signori, signori, non rovinate quel poco di sentimentalismo che mi è rimasto, per cortesia, per cortesia, perché io sono una persona che non sta più bene. E voi pensate, adesso sono un peppino meccanico brutale, proprio di bassa lega, uno scacchista veramente di qualità pessima. Ma dovevate vedermi vent'anni fa? Io vent'anni fa giocavo i tornei con i maestri internazionali dell'epoca, erano altri scacchi, fine anni 90, inizio anni 2000. Io giocavo gli Open, gli Open semilampo sempre, e facevo anche dei 7 su 9 Open con giocatori in categoria magistrale, con dei grandi maestri, ok? In torneo. Ho vinto tutti i campionati italiani in tutte le categorie nazionali, anche nei candidati maestri. Poi mi sono ammalato. Poi sono subentrati tanti problemi, ok? E non pensiate che io sia del livello 1200, eh? E faccio i video. Un po' di competenze le ho, non sicuramente da top, ma un po' di competenze credo di averle, poche. Quanto meno per illustrare il gioco le ho. Quindi non rompete più le scatole. Andiamo avanti. Le scuove tre. Le scuove tre è una mossa di sviluppo, però, insomma, tiene il pedone, va bene. C5, qui Ljubisaljevic decide di fare il tracotante. C3. Spinge ancora. Cavallo C1. Avrei preferito cavallo D2. Vediamo il motore. Cavallo D2 è meglio. Perché? Cavallo D2, torrone per migotti, mettiamo in D1. Cavallo F1, cavallo G3. Era una manovra che si poteva fare. Ma qui da C1 non capisco lo scopo di questo cavallo. E la gioca. F5. Queste sono le tipiche mossa dei giocatori forti, titolati, contro magari il meno titolato. Perché? Per un GM anche un maestro feed è un peppino meccanico. Siamo tutti peppino meccanici di qualcun altro. Ricordatevi questo. presa, presa, donna C2, attacca il pedone. E qui Ljubisaljevic blunders. Perché si metterà GX? È vero che difende il pedone, ma si metterà GX. Il motore propone H4 ad alfa zero. H4, H5. Stupiamo, vediamo. Non lo gioca. Cavallo va in E2. Vedi, cavallo F4. Non mi dite che l'idea di cavallo C1 era proprio questa. Pazzesca visione posizionale di Nessler. Cavallo in C7. Lo riporta in gioco. Però non gioca cavallo F4. Io avrei giocata subito al volo. Perché no? Miglior altrone per Migotti. Va bene. Cavallo D6. Cavallo in G3. Ma ha cercato il piano qua. Si è un po' confuso, secondo me. Anche quando avete di fronte l'avversario forte. Io ne so qualcosa. Perché nella mia vita ho affrontato dei GM, dei maestro internazionali. Poi sono 15 anni e più che non ne affrontavo. L'ultimo che ho affrontato è stato un maestro internazionale a Gaev. Ma era il 2012, se non ero. Quindi sono passati più di 11 anni che da quando ho affrontato un giocatore di quella forza. L'ultimo è stato Michel. Infatti non ho avuto scampo. Sono veramente arrugginito. Ormai io sono un rottame. Oggi come oggi. Fate bene a dire che sono un rottame. Perché lo sono. Ma non sono sempre stato così, eh. Sono sempre stato così. Non so se nei miei video si è vista la bacheca che ho dietro. Manco Federer a tanti coppoidi come c'ho io. Manco Federer. Quando avrete collezionato tutti i copponi che ho collezionato io nella mia carriera, le medaglie d'oro e i titoli, quel tricolore, allora magari potete anche dire la vostra, ok? Dire la vostra anche in maniera brutale. Invece voi parlate in maniera brutale e magari, non so, così. Senza sapere fino in fondo chi è la persona con cui vi state relazionando. Non lo sapete. Non lo sapete. Donna in G4. H3. E poi anche se fossi l'ultimo degli ultimi. L'ultimo degli ultimi. Che ve ne frega. Io faccio il mio canale. Se faccio schifo, al massimo ci perdo io. Non avrò utenti, non avrò iscrizioni, non avrò like. Così perché voi, in questo modo, date anche degli stupidi a chi segue questo tipo di canali. Non solo a quello... non offendete soltanto l'autore del canale, no. Offendete chi lo segue, chi si iscrive. Proprio considerate analfabeti funzionali tutti quelli che fanno cose che secondo voi sono logicamente inconcepibili. L'unica cosa di inconcepibile è proprio la vostra presenza sulla faccia della Terra, signori. Signori! Bene. E colgo l'occasione anche di andarvi a iscrivere anche in un canale scacchi e filosofia, ok? C'è lo scacchista filosofo, adesso ogni tanto viene in chat. È un video che ha aperto da poco, ha pochi iscritti. Però è simpatico. È simpatico. Magari non sarà un top GM, però mi piace il suo modo di vedere gli scacchi. È allegro. E poi è anche una persona colta. È un filosofo. Anche perle di saggezza. Andate a vedere quel canale, anche. Io non faccio solo pubblicità al mio canale, no. I canali interessanti ci sono quello di Mericard, Mister Chess di Carlo Marzano, che è un canale diverso perché comunque la maggior parte dei contenuti li hanno a pagamento, insomma. E poi anche Super Speed Chess, per chi è più giovane e vuole magari vedere un po' più di azione, ok? Questi sono canali, ma un po' tutti i canali hanno l'ho perché, ok? Quindi è inutile star lì a offendere un canale, l'altro è meglio, l'altro è peggio, va bene. Ognuno ha i suoi gusti, si guarda quello che gli piace, sta lì sempre a dire tu non meriti, tu non hai le qualifiche, tu non hai. E non le ho, pazienza. Ne avrò altre. Vorrei capire le qualifiche invece di queste persone qua che parlano, quali sono. Io sono il primo a dire che non sono uno qui che è venuto a insegnare gli scacchi per far diventare le persone dei maestri. Non l'ho mai detto questo. No. F5. Posso far migliorare i novizi. Quello sì. Ed è vero, perché molti novizi che sono sul mio canale, signori, tipo prima di guardare i miei video, magari stavano a 1.400 su l'ICS e sono arrivati a 1.700. Sono piccoli passi, certo, rimangono peppini meccanici come me, sono tutti in mondo di meccanici. No, no, ok. Però è così. Rilassiamoci un attimo. Rilassiamoci un attimo, perché... Io sono una persona che piuttosto preferisce un duello all'arma bianca. Risolviamo i fatti subito. No, sono... Ma non star sempre lì a buttare sempre odio dalla bocca. E poi ci stupiamo che l'umanità è sull'orlo di una guerra, di un'apocalisse nucleare. Per forza. Ci odiamo tutti. L'odio... L'odio gratuito è sbagliato. È bello il confronto, il duello, la sfida. Anche brutale. Anche due persone che hanno un conto in sospeso. Che la devono risolvere a mo' di duello. Alla samurai, il samurai. Ok? All'arma bianca. Non con le armi da fuoco che uno spara da 10.000 km, perché è vigliacco. Non uno che... Avere quei coraggi lì. E' qui il cavallo per G6, mostruoso Nessler, la migliore del motore. Un sacrificio raro, di rara potenza questo. Perché? Perché uno non ne vede subito gli effetti. Ok? Prendo, prende... Questo è inchiodato, ma è super difeso. Questo cavallo... Boh, non lo so. Può entrare, ma non lo so. Il torno e pernigotti qui è chiuso. Ci sono pochi pezzi sulla scacchiera, ma questa è mostruosa. È disumanoide, signori. È da Blade Runner questa mossa qui. Spaventosa. È la gioca migliore del motore. Allora, questa qui... Veramente io non riesco a coglierne... E non prende il pezzo. Allora, vediamo un po' che succede se prende sto benedetto cavallo. Vescovo per G6. Ti cambia ancora dei pezzi. Presa, presa... Questo non lo può prendere. Perché prende qui con scacco. Prende matto. Ecco cosa mi sfuggiva. Il matto. Non cade solo il pedone. Io ho detto, prendo il vescovo, perdo il pedone e poi... No! C'è matto in F5 di donna. Ma è pazzesca questa combinazione. Mi potete dire che non sono un tattico, ovviamente. Non è che vedo queste cose qua. Queste non le vedo, va bene. Però io cerco di spiegare gli scacchi in maniera semplice. No, no. La tattica... Ognuno se le allena come può. Io non ho neanche le energie per allenarmi nella tattica. Non sto proprio bene. Che cosa sto ad allenarmi nella tattica? Non devo più farlo agonista. Non esco mai di casa. Oggi, tra l'altro, è San Carlo, mio nomastico. Signore, chiusi in casa, con il leviatano esteriore, per me, per voi è interiore. Cosa volete che vi dica? La mia vita è così. Una vita... Boh, per qualcuno potrebbe essere invisibile. E io mi ritaglio questo spazio nel canale, per cercare di sopravvivere a livello di testa, altrimenti quest'ora sarei già partito. Sono già abbastanza partito, però non completamente. Presa, presa. Qui il nero prova attività coi pezzi. Cavallo, H5. Donna, F7 attacca a cavallo. E qui un altro sacrificio! Un altro sacrificio di qualità! Torrone per migotti! Per E4, signori! Prende il torrone per migotti. Scacco di cavallo recupera la qualità. Ma qui non lo fa per recuperare la qualità. Secondo me vuole attaccare ancora. Beh, Donna e 2 è di una bestialità immonda proprio. E la gioca, signori! Donna e 2! Donna e 2 vuole andare a dare il matto! Pazzesco Nesler! Giubisallievici. Ma chi me l'ha fatto fare di venire a giocare questo torneo in Italia? All'attraversare l'Adriatico? Perché poi San Benedetto del Tronto si affaccia all'Adriatico, chiaramente alla Jugoslavia. Riprendi il traghetto, Giubisallievici, e torna in Terraslava. Cavallo! Scacco doppio di scoperta. Doppio scacco. Doppio scacco. Signori, solo su questo canale scacchi tutti strategici, queste belle perle per queste partite. Ok, anche gli altri canali fanno vedere delle belle partite. Non dico di no. Ma queste partite riesumate dall'albo, no? Dall'albo qui, veramente, da Divina Commedia. Queste sono opere d'arte, signori, incastonate nelle biblioteche. La biblioteca d'Alessandria degli Schiacchi, signori. Presa. Torna Pernigotti e non abbandona gli ubbisallievici. Torna Pernigotti in C6, F3, spacca quel duo pedonale. Entra con la donna, attacca il cavallo. Toglie il cavallo, Nest. Torna Pernigotti. Giubisallievici le prova tutte, tira i pacchi. G6, G3. Mossa difensiva qui. Ridà la qualità di Ubbisallievici. Presa. Presa. Scacco. Re H2. Comunque ha un pezzo in più, Nestler. Presa. Un po' di minacce ci sono qua. Scacco, ad esempio. Deve spostare la donna. Donna è chi cambierà del motore, figurarsi. Vuol cambiare le donne. Scacco. Spostare. Qui cambiare le donne non è proprio così bello. Perché il nero ha poi due pedoni passati contro il pezzo. È un leggero vantaggio. Meglio prendere il pedoncino col cavallo. E lo gioca. È la migliore del motore. Perché molti di noi, soprattutto io, mi faccio attirare i cambi di donne quando ho il pezzo in più. Perché magari non mi accorgo che ci sono strutture pedonali che non danno tutto questo vantaggio. E qui doppiazza anche. Doppiazza. Duby Zalievic non molla. Anche perché se prendi... Ma di matto. No. Si prende matto. Qua non... Si prende matto qua. Non si può prendere il torno e pernigotti col cavallo. Trappoloide. Scacco. Questa si... Sposta il torno e pernigotti. Guardate i giocatori slavi dell'epoca come erano incarnati. Però dopo questo. Non mollavano mai. Piuttosto ti cambiavano i... I... I colori delle... Delle case di appartenenza del vescovo. Il vescovo delle case chiare diventava il vescovo delle case oscure. Ma non mollavano. La donna a zembo. Tipo... Magari la donna... Questa donna qui non ha posto... Hanno bisogno di metterla... Non lo so. In... In H7. Ti fanno... A posto di giocarla così. La giocano... A zembo, no? Se non mi da la freccia. Comunque. Te la giocano a zembo. Giochi di prestigio. Ok. Prestigiatore. Bene signorale. Furbi contrabandieri macedoni. Andiamo a vedere quei pezzi neri. Il video è un po' lungo. Cercherò di accelerare un po'. Perché ho avuto quello sfogo di metà puntata. Signori. Andiamo a vedere quei pezzi neri. Bene signori. Tre partite quei pezzi neri. Tutte prese dalle olimpiadi di Dubrovnik del 1950. Pezzi bianchi. Israel Horwitz. Giocatore ebraico. Contro Nesler. Ok. Quindi non so se giocava per Israele nel 50. no non credo. Orwitz forse è stato un intenso. Non so di che nazionista. So che uno si chiama Israel Horwitz. Chiaramente. E' israeliano insomma. E' ebreo. Ma quasi tutti gli scacchisti sono ebrei. Cioè nel mondo occidentale. hanno il monopolio. Diamo un gioco che rientra un po' nella loro cultura della Torah. Cultura matematica. Le scienze matematiche e finanziarie sono ad appannaggio degli ebrei. quindi non gli si può dire nulla in quel campo lì sono i migliori. E4 di Horwitz. Siciliana di Nesler. Una bella siciliana. Lui siciliano con la siciliana. D4. Presa presa. Cavallo F7 ha capito? Nel cavallo C6. D6. Ok. Scheveningen. Una bella Scheveningen. Bene. Qui. Horwitz gioca il fianchetto. Queste sono le idee che oggi gioca Karsen. Ok. Idee moderne. Per uscire fuori dalla teoria. Sapeva benissimo che i giocatori dell'epoca. E' paradossale però. C'era la paura della preparazione. Forse anche maggiore di oggi. Sapete perché? Perché? Chi andava alle olimpiadi. Diceva questo qua. No. Che gioca per la nazionale del suo paese. Siccome viene alle olimpiadi a trovare i migliori. Avrà studiato tutti i manuali esistenti sulla faccia della terra. E se studiavi tutti i manuali che c'erano sulla faccia della terra chiaramente eri preparatissimi. Ok. I motori di oggi sono un po' più dispersivi anche se più completi. All'epoca però c'erano quei quattro cinque tomi che se tu avevi eri un ababbo signori eh. Un ababbo degli schecchi. Oggi invece se hai quei libri lì sei soltanto un babbo degli schecchi. E' diverso. Comunque. Queste mosse qua per sorprendere. Perché se si usciva fuori dalla teoria all'epoca era drammatico. Era drammatico. Tutta la scacchiera. Invece oggi vedo male ci si può sempre raccapezzare. A6. Va col solito piano della siciliana. Vescovo in fianchetto. Donna c7. Tipica struttura da Ulf Anderson della siciliana. Arocco corto. Cavallo c6. Tipica mossa di re h1 della siciliana. Per impedire scacchi dopo f4 sulla diagonale scura. Vescovo in d7. A4. Impedisce b5. Vescovo in d6. F4. E bianco sta attaccando. Tranquillo. Via un cavallo. Perché è un pezzo pericoloso. Presa presa. Vescovo in c6. Solido il nero. G4. Avanti con tutti i badilanti signore. Qui prendere il pedoncino è disgraziata come mossa. È un super blunder. Se si prende il pedoncino cade il pedoncino G. Addio torne per negotti. Addio cavallo. Addio partita. Queste varianti della siciliana sono ancora tutt'oggi giocabili. Perché i motori... Quelle sono... Quelle tre o quattro aperture dove il nero ha ancora un gioco pari contro il bianco. Anche se io gioco sempre cose più strampalate però... Per non annoiarmi. H6. La migliore del motore. H3. Arroco corto. Dona F2. Bianco vuole ammucchiare pezzi sull'adire. Queste sono le tipiche manovre che vi mettono sempre in difficoltà. Vi attaccano in questo modo qua e non sapete difendermi. E' oltre nemmeno io, sicuramente. Cavallo H7. A5. Blocca. Vali donna. Vescovo F6. Vescovo D2. Bella questa. Donna E7 minaccia Vescovo in H4. Per attaccare la donna. E qui vedete Vescovo E1. Non vuole far giocare il Vescovo in H4. Torre. Prende la colonna C. Semi aperta. E qui avanti con tutti i badilanti. Tempesta pedonale. Che è? Attacco dei quattro pedoni contro la Siciliana. Segnario. Segnario. Vescovo per cavallo. Davia la coppia di Vescovi. Era un classico. Un must. L'odiatore della coppia di Vescovi. Nestler. Nestler. Signor. Prende col Vescovo. F6. E il motore dà ragione. Dà ragione al nero. Che dà via la coppia di Vescovi. Cavallo F6 è la migliore del motore. E andiamo. Qui dopo la ventesima. Lava 25 di fila. Torna per nei grotti. Vescovi. Bianco sta facendo mosse naturali. Qui. Prende il pedoncino. Adesso si può prendersi. Attacca la donna. Donna. G3. H5. Tiene bello di solito il cavallo. Vescovo F3 pensa di cambiare quel forte cavallo. Qui però è. F5. F5 non è facile da giocare. Qua leggero. Perché comunque ti apre in faccia la colonna sulla donna. Ecco vedete. Questi sono i momenti in cui. Un giocatore. Come mezzo. Nem più fa il blunders. Perché pensa che sia tutto a posto. Poi magari avrei giocato una mossa come questa. Che era inutile in realtà. Vediamo un po' la valutazione che scenderà sicuramente. Infatti gioco pari. Sono il campione del mondo a trasformare le partite vinte in gioco pari. F5. La migliore del motore. La gioca signori. Presa. Presa con scacco intermedia. Prende coltorone per nigotti. Ovviamente prende coltorone per nigotti. E qui. Manovra coltorone per nigotti. Entra Rocklift. Amma mia. F4 stricchiola. Lo difende. Raddriplica su quel pedone. Difende ancora. La base lì. Insiste coi torroni per nigotti. Era un maestro della gestione del torrone per nigotti. Era un maestro pasticciere del torrone per nigotti. Nessler. Cannoli siciliani e torroni per nigotti, signori. Il cannolo per nigotti, signori. Il cannolo siciliano per nigotti. Donna C7. Prova a cambiare pezzi, bianco. Scacco. Game over, signori. Meno 7. Donna D5. Però il bianco continuo non si arrende. Cambia. Presa. E qui cambia le donne. Cambiando le donne non so più se è così stravinta. Si prende il pedoncino con scacco. Invece no, prende in F4. Chi se ne frega. Cambia adesso le donne con 50 pedoni in più. Sarà vinta, no? D5. Solidifica tutto. Mette tutti i pedoncini su casa chiara. Perché c'è il vescovo e le case scure. E attacca ancora quel pedone. Eccolo lì. Pedone C3. Lo difende. Cavolo F6. Cavolo F6 vuole finire in E4. Cambia tutto. Cambia tutto. Ma si. Chi se ne frega. Scacco. Imposta il re. Ecco il cavolo che va in E4. Imposta il vescovo. Eh. Scacco. Imposta il re. Ma non si arrende il bianco. Ma la partita è strapersa. Scacco di scoperta. Sai su come il caffermattino. Ecco. Presa come il bianco non ha abbandonato perché ha detto voglio vederti venire su come il caffermattino. Se no non vale. Se no non puoi vincere. Dovete sapere che ha scacchi. Se non fate una mossa di re che viene su come il caffermattino non potete vincere la partita. L'arbitro arriva e dice no. Devi prima fare una mossa di re che fa su come il caffermattino. Anche andare giù come il caffermattino. Tanto la mossa di andare su come il caffermattino l'aveva già fatta. Quindi potete tornare indietro. È una nuova regola degli scacchi che voglio inventare. Per vincere la partita dovete almeno fare una mossa di re che avanza. Quindi se avete il matto del suo del barbiere. Ma avete ancora il re nella casa di partenza. Date matto ma non potete vincere. Queste sono assurdità che mi vengono in mente. A tempo perso. D4. Spinge. Sale su come il caffermattino per la platira. Attacca il pedone. Spinge. Che torna in E4. Ma non capisco cosa stia facendo qui. Horwitz. Sta bruciando come il fuoco. Continua a giocare. Forse perché il torneo a squadre. Gli altri magari stavano perdendo. Dicevi andare avanti fino alla fine. E avanti con questo cavallo. Manovra e manovra. Adesso due pedoni passati. Vanno su. Vanno su. Vanno su. Vanno su. Vanno su. Scacco. Sposta il re. E finalmente il bianco ha abbandonato. Perché anche se prende questo. Non può prendere mai il pedone. Perché cade il torneo per negli attimi. Bene signora. Andiamo a vedere la seconda partita. Sempre all'Olimpiadi. Degli scacchi di Dubrovnik del 50. Bene signori. Questa. In realtà non è stata giocata Dubrovnik alle Olimpiadi. Ma è stata giocata sempre nel 50. Ma al torneo di Venezia. Contro l'olandese Donner. Uno dei più forti olandesi dell'epoca. Questo qui era forte signori. Questo era uno dei rari top GM forti che ha affrontato Nessler. Vediamo. Pezzi neri per Nessler. Pezzi bianchi per Donner. D4. Cavoli F6. C4. Oh. Un est indiana signora. G3. C6. Che roba è questa cosa? Vescovo in fianchetto. Vescovo in fianchetto. E4. D6. E un est indiana con C6. Una pseudo pirk est indiana. Cavallo in E2. Ah rocco corto. Donner cerca un impianto un po' strampalato. Nel senso. Fianchetto. Il cavallo in E2. Mescola un po'. Tipo mezza variante Kramer. Mezza variante del fianchetto. Per cercare di confondere il giocatore di est indiana signori. H3. Vedete. Non da spunti. Cavallo Bd7. Arrocco corto. Io dico sempre. Quando avete queste... Giocate contro questa struttura qui. Attacco dei quattro pedoni. Via. E5. Vescovo E3. Presa. Presa di cavallo. Il problema di questo impianto è la debolezza in D6. Trattenti. Torna per Nicotti in E8. Cavallo C3. Cavallo C5. Pressione sul pedone E4. Con tre pezzi. Interessante. Donna C2 difende il pedone. Con tre pezzi. Cavallo, donna e vescovo. per. E quadruplica l'attacco sul pedone E4. Segnali. Segnali. Torna per Nicotti. Adesso prendere il pedone è pericoloso secondo me. Perché cavallo per. Cavallo per. Cavallo per. Vescovo per. Donna per. Potrebbe esserci qualche scoperta. Ok. Non vedo scoperte importanti per questo vescovo. Che succede? Si può prendere il pedone. Si. In realtà si può anche prendere. Lo bianco sta in vantaggio di spazio e sviluppo. Vabbè. Ne. Piccolezza. E non lo prende però il pedone. Preferisce lo sviluppo. Vescovo D7. Nessere. F3. Solidifica. Però al motore non piace. Perché è troppo passivo. Acceca il forte vescovo di fianchetto. Signori. A5 all'alfa zero. Avanti. Torrone per Nicotti. La colonna. A tempestare il pedone D6. E adesso torniamo indietro col vescovo. Vescovo. Secondo me Nessere non ci sta capendo più nulla. È confuso dalla... Non ha più pattern secondo me in questa posizione. G4. Donner. H5. All'alfa zero. A5. H5. Poi vi dicono che su log. Alfa zero ha scoperto che i pedoni laterali si possono muovere subito in apertura. Non solo gioco sul centro signori. Non solo gioco sul centro. Signori. Telecamera. Lui sta ferma. Il levietano che sta... Lui un po' con la telepatia a cambiare anche l'inquadratura della telecamera. G5. Cavallo H7. F4. Signori attacca. Cavallo F8. F5. E' avanti con T badilante. Bianco qui. E' dominante. Minaccia il forchettone. Coppie di vescovi. Cavalli centralizzati. Tutto centralizzato. Come fai a sopravvivere a stare da qua? Vescovi 5. Ammigliare il motore per tenere ancora qualche barlume. H4. Improvvisamente il vantaggio di più 2. Dona C7. Torano per negliotti va sulla F. Minaccioso. Cavallo in D7. Porta pezzi al centro. Manovra. Cavallo E2. B6. B6. Cavallo F4 di Donner. Vescovo Per. Vescovo Per. Cavallo E5. Cioè la partita è game over. Posizionalmente. Però trovare la gabola non è così semplice. B3 migliora del motore tra l'altro. Vescovo in un fianchetto un po' così. Un po'... Un fianchetto sgabuzzino. Torre F2. Ma qui Donner come fai a perdere la sua partita? Raddoppi i torni per migotti. Sta giocando come un mostro. Qui c'ho andato a sto vescovo. E in Zuzzo anche il nero. Vi rendete conto che in Zuzzo anche. Giocate. Giocate all'est indiana. Continuate a giocare all'est indiana che andate bene. Certo. L'vantaggio dell'est indiana è che poi è facile. Deve anche per il bianco fare qualche blunders. Quello si. Ah che roba. Pfff. Che mossa cazzo. Nessler in tilt. Entra col cavallo. Avanti indietro. Avanti indietro. Ma che fanno? Ballano la tarantella. Ma che stanno facendo? Donner spazientito non sa esattamente dove collocare i pezzi. In realtà il nero ha costruito una fortezza dove il bianco per vincere deve prendere una decisione drastica. Ma non ha voglia di prenderlo. Adesso cavallo G4. Vescovo F4. Va bene. Migliora. Torna in E5 e non c'è un chiaro modo per entrare qua. Anche il motore fa fatica. Trovo G4. Ma che serve? Vescovo G3. Ma che serve? In realtà la posizione del nero è un cubo di rubik che neanche il motore nonostante il più 2.8 riesce a capire come sfondare. E qui ripetizione di mosse no perché Donner preferisce perdere la partita. E qui bisogna trovare D5. E la gioca D5. Perché cosa ha visto qua? Ecco qua. Ha usato togliere il vescovo da questa diagonale e adesso si becca questa entrata di donna. Feroce. Prende lo pedoncino. Non si accorge di niente. Tranquillo. Prima raddoppia e torna i pernigotti. Questa veramente una rapina mano armata di Neslar. Ma manco il Barba Stratega riesce a fare delle rapine così. Signale. Scappa cos'è? E qui non ho Blunders. Nooo. Nooo. Partita stravinta. Allora tutti i modi per vincere. Cavallo e 4. Cavallo e 4 attacca il trone pernigotti. Se si azzarda a prendere c'è matto. C'è una 37esima mossa. Probabilmente era a corto di tempo. Ha preso il pedone. E' umana eh. Prendi il pedone e apri anche la colonna sul re. Però cavallo e 4. E' decisiva. Subito. Minaccia qualsiasi roba. Torna e pernigotti. Scacchi. Sacrificio di torna e pernigotti. Potrebbe arrivare anche. Arriva di tutto qui. La tempesta. La grandine. Ci va la grandine. Però qua. Blunders. Perché non si è accorto di... Adesso vince il bianco. Ma che sta facendo? Scacco. Re F8. C'è. L'aveva rubata e gliela ha riconsegnata. No? Perché si è pentito di essersi comportato da barba stratega. Vediamo però. Vediamo. Ah! Contro Blunders, signori. Donner. Donner di Natale. Un bel pacco Donner di Natale, signori. Qui però. Bisogna giocare cavallo G3. Cavallo G3 mettere un cavolo in presa. Cioè. Ma quantomeno forse. Torio G3. Anche. Dare la qualità a gioco pari. La posizione è talmente complessa che è veramente assurda. Cioè. Vabbè. Uno dice più 5.4. Però tutte le... Allora. Solo una linea vince devi mettere un cavolo in presa. Le altre linee sono assurde. Dare la qualità... Vescovo G1. Ecco. Vescovo G1. Era già più umanoide. Perché attacca meno una donna e porta un pezzo in difesa. A gioco pari. Quindi ci sta. Ma tutte le altre perdono. E infatti. Cambia. Cioè. Cioè. Spinge. Provando ad attaccare il trono per migrotti. Ma qui arriva. Scacco. Copre col vescovo. Ma non basta. Qui arriva matto in 6. E non lo vede. Ness. Non lo vede. Cavallo scacco. Vediamolo un attimo. Cavallo scacco. Re 1. Cavallo per G2. Scacco. Re F1. Cavallo G3. Scacco. Vortici. Re 1. Donna H1. Scacco. E che fa? Deve dare anche il cavallo. Se gioca così. Donna G2. Scacco. Re 1. Matto. Se gioca a sacrificare anche il cavallo. Scacco. Re 2. Vescovo G4. Matto. Incredibile. Non l'ha vista. Non l'ha vista. Va sul pratico. Però Donner qui ha abbandonato. Basta. È stata una partita piena di porcherie. Non fammene fare ancora una. Ha abbandonato. Ok. Questa è stata una partita veramente confusa. A doppio taglio di continuo. Andiamo a vedere l'ultima partita signori. Forse è la più bella partita giocata con i pezzi neri. Partita da antologia di Vincenzino Nester. Bene signori. Ultima partita di questa puntata come al solito ciclopica. Vincenzo Nester. Olimpiadi di Dubrovnik sempre nel 1950 contro lo spagnolo Sumar. Sumar. Da pomattina a pomar. Ah. Sumarello Sumar. Signori. Sumar. Vediamo se sarà così Sumarello. E4 di Sumar. C5 siciliana. Cavallo E2. Variante Keresh. Dovrò fare un video anche su questa variante contro la siciliana. Variante Keresh. Cavallo E2 che ho giocato anche qualche volta online. In realtà si può rientrare se si gioca dalla variante aperta. Con D4 si riprende il cavallo e nella realtà cambia poco nulla però. Cavallo E2 ha anche altre idee. Vediamo. Cavallo in C6. Parla di giocare alla variante chiusa con C3. D5. Ah. Attacca al centro. Vescovo in fianchetto. Presa del pedone. Presa di Vescovo. Cavallo F6. Sviluppa un cavallo. Attacca a Vescovo. Che torna in G2. E5. Impedisce D4. Il nero ha un bel centro di pedone. È forte sulle case scure. Controlla anche in parte le case chiare col cavallo. Può sviluppare tranquillamente i suoi Vescovi. A roccare corto. Il nero non ha problemi. Mentre il bianco è un po' rachitico. D3. Tipica dell'impianto chiuso dalla studiana. Vescovo E6. Cavallo G3. Sviluppo. Vescovo E7. Sviluppo. A rocco corto. Doona D7. Manovra di sfianchettamento. Con double option. A rocco lungo o a rocco corto. Signari. Signari. Torre E1. A rocco corto. Già il nero sta bene. Vescovo G5. Sviluppa pezzi. Il bianco. Torre E8 miliardi al motore. B3. Una mossa senza un senso. Una mossa da assumare. Ma questa apre un fianchetto. Indebolisce tutte le case scure. Ma il Vescovo l'hai messo in G5. E poi tutte queste case. Le case scure. Le case scure. Groviera sulle case scure. H6. Torna indietro col Vescovo. Interessante. Adesso lo vorrà mettere in fianchetto. Ma ok. Posizionalmente è già game over. Sfianchettamento. Toglie il Vescovo. Non vuole farsi sfianchettare. Torna per migliori sulla colonna E. Cavallo A4. Stumar prova qualche attacco. Però qui questo è un blunder. Qui B5. Il cavallo ha perso semplicemente un tempo. E la gioca. B5 ha migliorato del motore. Cavallo 2 con C3. Difende il pedoncino. A6. Vescovo in fianchetto. C4 ha migliorato del motore. Avanti. Sacrificio di pedone. Per aprire il guscio. Presa. Presa. B7. E qui. Non si può prendere. E ci deve essere qualcosa di tattico. Si. Se prende il pedone. Probabilmente arriva la donna B7. Attacca il Vescovo. Attacca la donna di scoperta. La donna va a difendere. E poi. Proviamola. Non ha preso il pedone. Però. Vediamola. Cioè. Donna. Donna. Donna B7 è buona. Comunque. E' la terza. Quarta linea. Ma. Donna F5 è ancora più forte. Attacca la donna di scoperta. Se prova a salvare la donna. Con Donna C1. Vescovo C5. Minaccia. Matto. Deve dare la qualità. Si. Guadagna la qualità. Ma. Può anche non prenderla. Prende la qualità. Prende con la donna. E cavallo B4. Mi sembra più che bastevole. Qualità in più. Torone per nigotti. Strabordante. Cavallo strabordante. Vescovo strabordante. Cavallo anche qui strabordante. Tutto che straborda. Ok. Visto che non si può prendere. Ok. Io ho giocato Donna B7. Era valida lo stesso. Però non era così. Feroce. Io mi fermo sempre un po' a metra strada. Mi mancano sempre 10 centesimi. Per fare un euro. Ok. Donna D2. Prende un altro peloncino. Presa presa. Cavallo va in B4. Sposta il cavallo. Cavallo in G4. Guardate che roba che attacco. Mentre il nero attacca quei cavalli. Il bianco decide di tenerli nella stalla. Perché comincia a fare freddo. E le bollette del gas per il riscaldamento. Del pellet. Tutto quanto aumentato. Allora i cavalli devono andare nella stalla. Prima del tempo. Prima dell'inverno. Ok. Vescovo C5. Mostruoso. Tac. Tac. F5. Avanti. Contrattacca il cavallo. Ma qui è game over. Cavallo per D3. Monicidiale. Però anche F per D2. Questa l'avrei giocato. Io avrei giocato questa. Semplici. Non avrei visto cavallo per D3. Non ci avrei neanche pensato. Infatti non gioca nessuna delle due. Cavallo C6. Torna indietro col vescovo. Cavallo. Su avamposto. Ma qui. Una mossa. Un Rocklift. Pensando di difendere il punto. F2. Alla lontana. Batteria. Su F2. Guardate che roba. Ma anche Bianco difende bene. Su F2. Cavallo E3. Il clamoroso errore. Qui però deve trovare il F2. Cavallo per F2. Sacrificare il pezzo. Perché dopo. Donna per. Potrebbe arrivare anche F4. Presa. Presa. Qui c'è. Una scoperta. Se va via questo cavallo. Perde la donna. Cavallo per F2 è veramente micidiale. Ma la troverà. E la gioca. Signori. Cavallo F2. Mostruoso. Infatti arriva proprio F4. Questa l'avevo vista. No. Io la partita non è che l'ho vista prima. Non è che me la sono analizzata prima. Non mi ricordo neanche quello che ho mangiato a pranzo. Anche l'avessi ben vista. Ma questa è scontata. Anche perché il tema qual è? Inchiudatura. A lunga distanza. Aprire le linee. E i vescovi. Presa. Presa. Presa ancora. Il cavallo se si toglie qua. E inizia. Inizia veramente la tempesta perfetta. Sposta la donna. Ha capito che c'era un problema. Se spostava il cavallo. Mettiamo. Questa. Poteva arrivare il cavallo. Cavallo. Cavallo scacco. Questo. Questa è. Questa è mostruosa. Questa qui. Mostruosa. Anche se c'è matto in tre. Con torre per uno. E io ho rigiocato questa. No. Tanto per dirvi che non è che vi dico. Cioè. Non è che scopiazzo la partita prima. E poi trovo il matto in tre. Facendo finta di averlo visto io in diretta. Cioè. Indifferito. Cavallo. No. Vi faccio vedere che a volte le trovo. E a volte. Molte volte. Non le trovo. In H4. Però non prende. Qua. Giocadonna. In H4. Sposta il Deci. Via. Un pezzo. Preso. 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 Beh. Il nero è un pezzo in meno. Difende quel cavallo. Lo recupera con scacco. Sposta il re. Piazza torna e pernigotti sulla F. Su Mark. Prova a difendersi. Arriva in H4. Anche la donna. Minaccia. Un bello scacchetto. Forse addirittura. Matto. Quasi. Quasi. Sale su come caffè al mattino per evitare il matto. Vuol cambiare anche quel verco. Sposta la donna su Marte. Torre F5. Su Marte. E l'ha fatto finire su Marte. Su Marte. Presa. Presa con scacco. Copre di donna. Scacco. Matto in due. E su Marte ha abbandonato. Su questa. Donna per F3. E perde la donna. E perde la partita. Perde se per la donna. Non può venire in F2, signori. Bene, signori. Questo era Vincenzino Nessler. Un giocatore che poteva ottenere di più dalla sua carriera. Ma in realtà lui non è mai stato un professionista degli scacchi. giocava qua e là. A tempo perso. Giusto i campionati italiani. Qualche torneo in Italia. Un paio di olimpiadi. Qualche soddisfazione. Giocatore semplice. Un giocatore che veramente è iniziato tardi. A venticinque anni a giocare a scacchi. Questo fa capire che con il lavoro. L'umiltà. Con la pazienza. Si può ottenere qualcosa. Forse non negli scacchi di oggi. Ma una volta era così. C'era speranza anche per chi iniziava più in là con gli anni. Ok? Bene. Domani pausa. Ci vediamo domenica. Adesso devo solo capire l'orario. Un attimo che vi... Non voglio stare in concomitanza con il campionato di calcio. Perché poi tutti vogliono seguire le partite. Vediamo. Un attimo. Bene. Domenica alle ore 15 del pomeriggio. Orario particolare perché alle 18 c'è il derby Roma-Lazio. E alle 20.45 c'è Juventus-Inter. Io capisco che a molti di voi non interessa il calcio. In realtà... A me interessa però. Do la precedenza al canale, ovviamente. Però ci sono tanti tifosi di calcio sul mio canale. No. Molti romanisti, interisti, laziali... C'è un po' di tutto. E quindi vorranno vedere questi partitoidi. E quindi... Alle 15. Dalle 15... Alle 17. Più o meno. Un paio d'orette da domenica. Domenica criminale ci sarà. Andremo a vedere uno dei più grandi furfanti della storia degli scacchi. Non voglio dire niente sorpresa. Uno che è stato in carcere. Uno che veramente era un infame, ma di quelli... Non un assassino, ma era uno che... Avrebbe fregato persino sua madre. Uno di quelli senza scropoli, no? Che approfitta... Lo sciacallo, ecco. Lo sciacallo... Uno sciacallo criminale. Uno che proprio non rispettava niente e nessuno. Ma uno che non avete mai visto da nessuna parte. Spaventoso. Domenica una puntata alla Blue Good. Secondo me è forse anche peggio. Bene, signori. Perché andremo direttamente... Scacchi... Scacchi... Scacchi criminali. Non voglio dire altro, signori. Non voglio darvi indizi. Domenica puntata speciale, signori. E ci sarà il barbapsicologo. Perché il barbapsicologo? Scacchi criminologo. Ok? Bene, un saluto da me. Un saluto dal Levietano interiore, nel mio caso esteriore. Buon sabato. Ciao. Arrivederci. Like e iscrizioni. Mi raccomando. Like. Così il canale aumenta. E diventiamo tutti più peppini o meccanici. Ciao. Arrivederci.